Musica Approvata la variazione di bilancio da 150 milioni Crisi occupazionale in Piemonte Informativa dell'assessore Chiorino su Exilva e Liar Auditi anche i lavoratori T-Connectivity Psicologia scolastica 455 istituti hanno aderito alla prima fase del progetto Nuova edizione di Consiglio News ben trovati In apertura il via libera da parte dell'Assemblea Legislativa La variazione di bilancio 2023-2025 Approvata la variazione di bilancio da 150 milioni Con i voti della maggioranza il Consiglio regionale del Piemonte Ha dato il via libera al DDL 289 L'assessore Andrea Tronzano ha rivendicato i risultati complessivi Nella gestione dei fondi regionali che ha permesso di liberare queste risorse Come ci lasciate il bilancio? Ecco, l'unica certificazione che posso dire in questo senso è quella di Moody's Un risultato di prospettiva che garantisce al sistema piemontese maggiore stabilità E il fatto di essere passati a BA1 invece che BA2 dimostra una grandissima capacità Ad anticipare l'aumento dei tassi e tradurre i mutui che allora erano a tasso variabile in tasso fisso in anticipo Questo è stato uno dei segreti che ha consentito a Moody's di migliorare il nostro rating Sanità, trasporto pubblico, sociale, cooperazione e istruzione sono i capisaldi di questa variazione Ha aggiunto l'assessore ricordando anche che in tema di cultura si è puntato sul cinema e sull'audiovisivo Come esempio di innovazione nell'uso delle risorse Scelta che ci ha aiutato a diventare la seconda regione italiana per produzioni cinematografiche Alberto Preioni, Lega, si è detto molto soddisfatto dei molteplici interventi contenuti in questo documento Una variazione importante di 150 milioni di euro, una variazione ampia che va a parlare di welfare, di sviluppo e tante altre materie Vengono trasferite alle università oltre 4 milioni di euro per la formazione dei medici specialistici Ci sono 2 milioni per il tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e delle associazioni con particolare riferimento agli ambulanti e mercatali Un milione per il fondo al sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane Diego Sarno, Partito Democratico, annunciando voto contrario Ha lamentato che le proposte alternative sull'utilizzo di queste risorse non sono state ascoltate dalla Giunta e dalla maggioranza in particolare in tema di voucher scuola e di RSA Shonsacco, Movimento 5 Stelle, sempre annunciando voto negativo ha criticato questa manovra con la quale si poteva fare molto di più Con 150 milioni di euro, se spesi con criterio e non frammentati si possono fare tantissime cose per esempio possiamo intervenire sugli stipendi dei sanitari per evitare l'emorragia dalle asle pubbliche Approvati dall'Aula anche 10 atti di indirizzo collegati alla variazione di bilancio 2023-2025 Affirma Alessandra Biletta, Forza Italia, Silvio Magliano, Moderati Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Monica Canalis, Partito Democratico e Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare Le crisi occupazionali dell'Exilva e della Liara al centro dell'informativa in Aula da parte dell'assessore Chiorino Tornare alla piena produzione e occupazione dello stabilimento puntando anche alla sostenibilità dell'acciaio prodotto E quanto ha ribadito in Consiglio regionale l'assessore al lavoro Elena Chiorino nell'informativa sulla crisi aziendale dell'Exilva che in Piemonte occupa circa 600 dipendenti tra Novi Ligure in provincia di Alessandria e l'unità produttiva di Racconigi nel Cuneese Siamo consapevoli di quanto importante sia il settore siderurgico ha sottolineato l'assessore Chiorino Massimo è e sarà sempre il sostegno da parte di Regione ai lavoratori del comparto che vivono questa situazione sul nostro territorio Un'altra azienda che versa in difficoltà è la Liar di Grugliasco in provincia di Torino che opera nel settore dell'automotive dove sono a rischio circa 400 posti Come Regione abbiamo chiesto al Ministero il rifinanziamento dell'ammortizzatore sociale, ha spiegato l'assessore al lavoro Chiorino ha poi annunciato un nuovo incontro al Ministero dell'Industria per il prossimo 11 gennaio Nel corso del dibattito successivo Diego Sarno, Partito Democratico ha chiesto la convocazione di un consiglio regionale aperto per conoscere la strategia regionale per tutelare i lavoratori e attrarre nuove aziende sul territorio richiesta ribadita anche da parte di Francesca Frediani Movimento 4 Ottobre Unione Popolare Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi ha ribadito la necessità di conoscere la visione di politica industriale della regione Piemonte Shonsacco, Movimento 5 Stelle nell'annunciare di aver depositato la richiesta di un consiglio aperto sul futuro dell'acciaio in Piemonte e a livello nazionale ha chiesto di conoscere se e quando il governo avrà intenzione di investire nella riconversione energetica dello stabilimento Exilva Altra situazione complessa è quella dei lavoratori della T-Connectivity a seguito della decisione della multinazionale svizzero-americana nel campo dei prodotti per l'elettronica di delocalizzare tutte le produzioni presenti La delegazione ha chiesto al Consiglio regionale e a tutte le forze politiche di farsi parte attiva sui vari tavoli istituzionali al fine di trovare una soluzione industriale da parte del gruppo alternativa alla delocalizzazione Dobbiamo fare in fretta, l'audizione è servita proprio per fare in modo tale che il Consiglio prenda atto e prenda coscienza ancora prima che entri in crisi e ci sia la cassa integrazione L'assessore ha valutato attentamente e prossimamente audiremo nella commissione competente i lavoratori per fare ancora fronte comune e affinare la richiesta al governo Chiediamo di sostenere la nostra avvertenza, la nostra richiesta verso questa multinazionale di rivedere, ritirare la decisione che ha preso, cioè quella di chiudere uno stabilimento licenziare 222 persone ma trasferire le lavorazioni in altri siti nello specifico in America, in Cina A tutela dei lavoratori della T-Connectivity, dello stabilimento di collegio che riscano il licenziamento il Consiglio regionale ha anche approvato all'unanimità tre ordini del giorno affirma Sara Zambai, a Lega Diego Sarno, Partito Democratico e Sara Di Sabato Movimento 5 Stelle Sono 455 gli istituti che hanno aderito alla prima fase del servizio di psicologia scolastica approvato con legge lo scorso giugno 2023 Quanti sono gli istituti piemontesi che hanno mantenuto e intendono mantenere il servizio di psicologia scolastica? Questa l'interrogazione che la consigliera del Movimento 4 Ottobre Unione Popolare, Francesca Frediani ha rivolto all'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino Il servizio, ha risposto in aula all'assessore, ha previsto una prima fase di sperimentazione finalizzata a quantificare il numero di domande del nuovo servizio così da poterlo ulteriormente strutturare nel triennio successivo Al monitoraggio dell'ufficio scolastico regionale hanno partecipato 455 istituti di ogni ordine e grado Lo sportello è attivo nel 94% delle scuole che hanno aderito alla sperimentazione, cioè 429 istituti Gli psicologi scolastici potranno svolgere attività nelle scuole come sportelli di ascolto prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicofisica contrasto al disagio relazionale anche dovuto alla pandemia Covid-19 e sostegno all'orientamento Siamo in chiusura di edizione Prima di salutarvi, vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti